Ecco la qualità dei pezzi Aliexpress sul mio KTM. Il tappo pompa a frizione è troppo grande. Il tappo della pompa a freni è inutile. Una volta ho appoggiato il piede troppo forte sulla pedalina e questo è il risultato. La freccia serve solo per gli elicotteri e con una vibrazione cade. Se appoggiate la moto al muro il paramano si spacca. L'ho appoggiata tante volte. Volevo cambiare la frizione a banana ma l'aggancio di questa non va bene. In caso di incidente il paramano vi farà dei airbag e non vi fa schiantare contro il manubrio.